Salve ragazzi benvenuti al canale oggi raga di nuovo qui sullo splendida mappa italia ovviamente su farming simulator 19 ovviamente accompagnati nuovamente dal nostro buon collega stenn84 che salutiamo e diamo il bentornato Buongiorno buongiorno simulator buongiorno a tutti i ragazzi e grazie per l'invito sulla mappa italia Ma figurati grazie a te per essere tornato qui sulla mappa italia Allora ragazzi siamo lasciati lo scorso episodio con un po' di semine qui e là avevamo comprato il nuovo trattorino un po' di bug strani al biogas Ci stanno sempre Ci stanno sempre un po' di semine qui e là che io poi raga piano piano ho dovuto mandare un pelino avanti il tempo per varie dinamiche interne E in pratica stanno già iniziando a crescere i campi già è già tutto a stadia stramega avanzati Guardate qua l'erbaccia come è arrivata a stadi veramente altissimi così quasi non si vede neanche più l'orizzonte talmente l'erbaccia è alta E addirittura non so se notate da lontano ci sono gli alberi già belli alti Gli alberi ovviamente in questa puntata non li andremo a toccare andremo a toccare solamente a raccogliere che questo lo farà il collega Anzi collega se vuoi già andare puoi andare andrà a raccogliersi gli alberi quelli che avevamo già raccolto nella fine dello scorso episodio raga Gli andrà a portare alla segheria e poi mi andrà magari a fare un po' di vendite di maialini Nel frattempo però io non è che posso star fermo devo andare a togliere le erbacce per fare ciò circa una settimana fa E stavolta devo dare merito al collega che mi ha anticipato di parecchi giorni è uscita una bella mod interessante Per la precisione raga è uscita una erroratrice una sì una erroratrice la chiamerei Che si trova qui in protezione per il raccolto e che si chiama Caffini La potete trovare se non mi sbaglio nel mod hub ufficiale Non so se è anche per console non me lo chiedete perché io per console non me ne intendo proprio però per pc sicuramente c'è Quindi oggi che facciamo beh la compriamo sicuramente la testiamo la proviamo e la uniamo al nostro già bello grosso parco macchine Molto molto utile proprio per la mappa italia perché i campi sono medio piccoli quindi non servono quelle mega erroratrici Che di solito utilizziamo tipo lardi che abbiamo usato nelle risaie del nord Allora sì va bene io già la stavo aprendo bello gasato ma dobbiamo prima ricaricarla Ah ma c'è anche il cicalino di retromarcia ma qui siamo all'avanguardia proprio eh Nel frattempo che la Caffini si riempie vado a farvi vedere che cosa ho fatto off camera Non tanto sinceramente ma qualche cosina l'ho fatta Per la precisione un paio di cose ho terminato le due semine sul campo 2 sul campo 22 Giusto così per informazione e poi ho comprato raga la benna per il same vigneron Eccolo qua lo vedete già pieno di concime perché sono andato a recuperare il concime che ecco che è questo qua raga Che già è a 400 litri sto bidoncino quindi possiamo già anche riscaricarlo Che praticamente sono gli scarti della fabbrica che producono in pratica concime Eccolo qua questo è quello che volevo solamente farvi vedere oggi che ho fatto off camera Non ho fatto molto però insomma meglio che niente Allora nel frattempo volevo farvi vedere anche l'interno raga guardate quando lo accendo con questo bel quadro davanti Col contachilometri e con l'indicatore del carburante tutto elettronico guardate che bellezza Meravigliosa fatta veramente molto bene sta Caffini eh Allora come metratura non ricordo quanto è ampia mi pare sia ampia 22 metri 8 23 metri dai praticamente Paragonandola a quelle base diciamo la Stara è sulle 27 metri e l'Ardi è sulle 48 quasi 49 metri Quindi qua siamo veramente Diciamo che è una classica irroratrice solamente che ha il motore come un affare del genere è 24 metri Quello è 28 guardate il Kunmetris è già 36 metri l'unica cosa è una piccola aeroratrice tipo la Ardi ma semplicemente col motore niente di più Control Y ti allarga le ruote però devo dire che con le ruote larghe è molto meglio eh Io l'ho messa a metà Ah c'è 3 metri 2 metri e 25 sì 2 metri e 25 eh no ma penso sia la la vedo anche più salda sul terreno Allora campo 22 è terminato abbiamo tanti altri campi ancora da fare ma tanto non siamo intimoriti con questa nuova attrezzatura Allora vediamo un po' allora erbaccia sì ci manca ancora il 23 il 2 e l'1 ma dobbiamo anche iniziare e terminare in realtà le semine Semine che ricordo campo 21 è a patate e campo 15 e 16 a cipolle Ok raga primo punto avviamo il percorsino e speriamo che queste sementi bastino per la semina del campo 21 qui a patate Ovviamente poi sicuramente qua andranno a crescere le erbacce potevano crescere tutte insieme no tutte a stadi vanno a crescere Ok raga ho creato il percorsino anche qua sul campo 22 così intanto questa la lasciamo andare da sola Che io mi vado a occupare di altre cose molto molto importanti allora dobbiamo iniziare nel frattempo che tanto non abbiamo altro da fare Io inizierei raga con la falciatura del trifoglio erba di cavallo e erba medica Per la precisione però devo capire che cosa fare di queste tre colture se farle a fieno se farle a insilati se fare qui se fare là Allora vediamo un po' allora del trifoglio facciamo insilato quindi me lo scrivo raga E invece dell'erba medica facciamo il fieno ok per quanto riguarda invece l'erba per cavallo non c'è più L'ho piantato per nulla non ci credo E io che ne ho milioni di litri Oh signore che me ne faccio di tutta sta roba Ma anche l'erba da pasco lo vedo che non la richiedono più Si vede che allora con la nuova implementazione non hanno bisogno di sta roba qua e allora la vado a togliere vado a mettere altro trifoglio io Va bene per questa volta la falciamo raga piuttosto lo vendiamo vediamo dove si vende bene Togli la mod piuttosto Beh io nel frattempo che però si vabbè dai facciamo insilato per cavallo raga Facciamo insilato per cavallo ce lo andiamo a vendere per 900 euro al biogas Poi vediamo se andare a capire se togliere la mod nuova oppure andare a cercare di incastrare le cose vediamo un attimino Partiamo belli rapidi con il nostro bellissimo F140 Il nostro bellissimo Fiat Agri Andiamo a prendere le due falciatrici e andiamo a falciarci tutti i campi Una volta falciati andiamo a creare le varie i vari stadi di roba che ci serve a noi Ok allora percorsino ho creato un secondo è che metto solo il percorso dimmi dimmi tutto Facciamo partire intanto questo Quanti ne vuoi vendere? Eh se riusciamo ad arrivare a 100 maiali dentro la stalla non sarebbe male Perché più di 140 siamo ancora su 150 e sono troppi veramente Allora qua erba medica fresca stiamo andando che è una meraviglia Vado a vedere un attimo il caffini perché vedo che mi sa che necessita di una mano Vediamo un po' Ah innanzitutto anche il same Ora ora mi è arrivato che necessita di una mano Ah giustamente ha bisogno di senenti questo qua Qua fortunatamente ho la mia scorta segreta Beh non è molta però dai Almeno gli possiamo dare un qualcosina può continuare almeno la lavorazione Vai diretti verso il campo 21 Ok scarichiamoli tutto questo contenuto e poi vado a portarlo Vai scaricami tutto e poi vado a fare un pieno laggiù al biogas va raga Allora intanto questo iniziamolo a mandare verso il biogas vai verso il biogas vai verso il biogas ok Perfetto mandiamo anche lui nel frattempo qui vedo che ha finito beh finito per modo di dire Sempre per modo di dire perché mi lascia sempre di quei punti che io dico va Ok raga terminato perfetto allora creato anche il percorsino qui sul campo 13 Allora fa intanto avvia percorso Oh la vedo bella spedita collega lei eh veramente Allora come detto facciamo semi ok speriamo di non spendere i milioni per sti semi Come è successo l'ultima volta Allora dove sta la nostra bella caffini nuova eccola qua Ha la faccia 22.000 euro di sementi Madre immagino Questo dove lire proprio eh parca miseria Sì basta questo carico che fai è l'ultimo eh Sì 109 esatto Sì va bene va bene basta Puoi pure smettere di caricare i maiali Beh per oggi per oggi ci hai dato abbastanza Allora nel frattempo che il caffini si riempie raga Vado a prendermi un attimo la seminatrice perché dobbiamo partire anche con la semina delle cipolle Sui campi 15 e 16 Ok raga partiamo con Via percorso Uh l'operario è arrivato Fermo 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 Partito quello lì Vediamo un po' se è partito Sì azotto perfetto cipolle Ok sì siamo partiti Boh nel frattempo che qui scarica Altri operai da sistemare sono il titan che Oramai mi sa che ha ben più che finito Qui ha finito di caricare sì finalmente Qui li facciamo fare punto corrente Tanto in teoria Dovrebbe andare verso il punto che li avevo Preimpostato in precedenza Qui abbiamo finito raga andiamo a impostarlo a questo punto Sul campo 12 anche se a questo punto l'erba per cavallo momentaneamente non ci serve più però va bene Quale stadio serviva per fare l'insilato il prossimo stadio? Prima volta che facciamo che falcio erba per cavallo Non l'ho mai falciata nella mia serie Prima volta raga sono un po' Eh sì sono un po' emozionato se devo essere sincero Vediamo un po' Erba per cavallo Vediamo un po' cosa ne esce Ovviamente Ah ma ne esce erba Tipo di prodotto erba Se io la falcio Se io la falcio Ne esce erba Potrei direttamente No voltarla scusate Ranghinarla e portarla direttamente perché I cavalli hanno bisogno proprio di erba E sono proprio a 0 litri Quasi quasi io Non faccio proprio niente Proprio lavorazioni in più Io su questo campo non ne faccio Andano tutto E vado a portargli Ste balle di erba Faccio balle E le vado a portare Ah sì sì Quindi Diamoci subito sotto Andiamo subito a portare Questo bellissimo fiatino Con il ranghinatore Sul campo 12 Ah interessante però Perché io pensavo che mi desse erba Per cavallo fresca Eccoci arrivati raga Uh son proprio contento Di aver scoperto questa cosa raga Veramente son contento Perché Almeno Non dobbiamo fare troppe lavorazioni Allora qua intanto Come stiamo messi Eh qua non mancherà molto Dobbiamo andare a Dargli un pochettino di sementi Ho visto che però Il caffini ha finito Sì fermo a percorso Vediamo se qui Abbiamo terminato con Le erbacce Sì Mancherebbe solo il 23 e l'1 Ma dato che son più vicino all'1 Vado un attimino Sull'1 Allora tanto nel frattempo Che l'operaio raga Termina di falciare il campo 12 Io dovrei stare fermo Allora mi vado Un attimino io A Aerorare sto campo qua Così almeno questo È già terminato Poi raga sinceramente Sto campo 1 Sarei tentato A farci un qualcos'altro Adesso Tenerlo a terreno Coltivabile Inizia a diventare Un po' piccolo È un po' lontano È un po' lontano dalla farm Non so che farci Precisamente Perché purtroppo Altri allevamenti Non ne possiamo mettere Perché questa mappa Blocca Qualsiasi altro tipo Di allevamento Non lo permette Di inserire Però Magari farci un terreno A erba Che ne so Vediamo Magari un altro tipo di erba Erba di campo Erba da pascolo Ci sono vari tipi di erba Che ancora Non abbiamo trattato E che magari Si potrebbe comunque trattare Voilà Campo 1 Terminated Vai Chiudi tutto Allora Dobbiamo andare Verso il campo 23 Vabbè Vai verso il campo 22 Poi appena arrivi Mi fai un fischio Ora il 180 Ovvero il Landini Ha finito Ah l'F140 Ha anche finito Si tutto sommato Anche abbastanza bene Ottimo Le falciature Sono state terminate Raga Poi ovviamente La falciatura ad erba La dovremo andare a sistemare Ma Prima dobbiamo prendere il coraggio Di andare A tagliare tutti questi alberi E portarle alla cippatrice Ma Penso che oramai Il prossimo episodio Lo andremo a fare Nel frattempo però Vado con il 1180 Che è già bello caldo Bello caldo caldo Il motore Proprio per Iniziare questa bella Lavorazione Ovvero La ranghinatura Dell'erba Sperando che questa erba Gli vada bene Però a me segna solo erba Non segna né erba fresca Né nulla di tutto ciò Raga Ok raga Terminato Voilà Alziamo tutto Chiudiamo tutto E adesso veniamo a raccogliere Sta bella erbettina Ah Erba medica fresca Qua mi dice Che c'ho all'interno Ah già Che avevo un'altra balla Di erba medica E Vabbè La vado a fregare Un pochettino Da questa erba medica Appassita Va Togliamo questa balla Raga Poi non so se servirà Boh Andremo a sistemare Al limite ci facciamo Un po' di insilato Di questa roba qua Allora dai Facciamo sta prova Del 9 Una volta per tutte Erba Effettivamente Erba Bene Esci Sta ballina Vediamo un po' Cosa mi dice Erba Ok raga Io però raga Sto facendo balle su balle No Ma mi sono appena accorto una cosa Ho visto che c'è qualcuno Che è fermo Già da un po' di tempo Ah ma questo è riuscito a fare Ma non ci credo Sai quanti semi Sono rimasti Nella seminatrice 10 Ed è riuscito A finire il campo Andiamo a ricaricare Ovviamente L'asseminatrice E andiamo a seminare L'ultimo campo Raga Campo 16 Allora raga Primo punto Avviamo il percorsino Già che ci siamo Partiamo Ok Sblocchiamole anche Un pelino di velocità Così mi va E anche un po' più rapido Vediamo un po' Ok Zotto perfetto Valore pH Buono Vediamo un po' Se sta seminando Come si deve Sì Assolutamente Sì Assolutamente Sì E abbiamo seminato Tutto raga Dalle Barbabietole Queste qua sono Patate Carote E cipolle Ok Ortaggi Tutti piantati Poi I prossimi episodi Andremo A raccoglierli Vediamo Insomma Ah sì Effettivamente è vero Sta venendo un pezzettini Di Pezzettini di fieno Pezzettini di trifoglio Semisecco Pezzettini di trifoglio Fresco Sì Sta uscendo un po' Un po' a macchie E si conviene Quando Inizia ad imballare Da partire Dalla in fondo Ok Sì Partirò Da là In fondo Allora Ok raga Ultimo Pezzettino Faccio l'ultima Ballettina Proprio da 8000 Raga Poi rimane Giusto Questa Mini Striciolina Ma direi Che va Assolutamente Bene Basta Non vado A fare Altro Se no Mi si Baga Tutta L'imballatrice Allora Sono uscite 2 4 5 6 8 10 12 Balle Bah 12 balle Di cui Tutte da 10.000 Tranne Una da 8000 E una Da 4.000 E poi Anche comunque Dovremmo andare A sistemare Le galline Perché le galline Stanno messe Veramente Male Poverine Veramente Veramente Male E vedete Che in qua Invece I cavalli Erba Proprio 0 litri Quindi Andiamo un attimo A sistemare Siamo arrivati A un'ora Però facciamo Giusto Quest'ultima Cosa Raga E poi Ci possiamo Anche Terminare Per questo Episodio Ok raga Autoload Alla mano Adesso Iniziamo a Caricare Tutte le balle E poi Come detto Le portiamo Ai cavalli Ok Eccole qua Raga Eccole qui Tutte le nostre Belle ballettine Allora Adesso Questo Lo dobbiamo Mandare Verso Come detto I cavalli Quindi Facciamo Cavalli Vai Versi i cavalli Due minuti e mezzo E ci siamo Vai Nel frattempo Io vado a sistemare Ok io sul 14 Ho fatto Bene Bene Collega Puoi rilassarti Un secondino Adesso Sistema tutto Io vado un attimino A prendere Il Ah beh Se vuoi iniziare Un attimino Qua mi fai un favore Però Se vuoi iniziare Intanto il campo Questo qui Perché io voglio andare Nel frattempo Che l'altro operaio Arriva Questo mi sembra Che abbia quasi finito Sì Oramai non mancano Proprio tante passatine Vediamo Anzi direi che proprio Ne mancano Quattro in croce Bene Credo che a questo punto Possiamo anche Dire che è conclusa Ufficialmente La semina Perché oramai Veramente raga Entro la fine della puntata Riusciremo tranquillamente A terminarla Ok raga Eccoci giunti A destinazione A questo punto Vediamo un po' Se Queste balle Me le prende O se ha bisogno Sì che me le prende Certo Oh Già a posto Avevano bisogno Di veramente pochissima erba Allora Vabbè Quest'altra erba qua Che cosa me ne dovrei fare A questo punto La porterò ad altri animali Va bene Dai A questo punto raga Direi che possiamo Definire conclusa Questa puntata Ovviamente raga Vi ricordo che in descrizione Potete trovare tutti i miei link utili Ovviamente ho preso anche il link Per preordinare Farming Simulator 22 E anche il link Del Season Pass Trovate tutto in descrizione Ovviamente trovate anche il link Del buon collega Che io ovviamente già Ringrazio E figurati Bene raga Anche se non ci vediamo Collega Ti mando un grosso saluto Un saluto a voi raga E ovviamente Ci vediamo Al prossimo video Ciao a tutti Ciao 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 a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti